Pronto? Pronto, è il signor Sindaco, buongiorno. Senta, io non capisco che cosa sta succedendo, veramente, io l'ho fatta venire con un sacco di stimoli di fiducia nei suoi confronti e io fortemente non capisco. Ma ne è curioso, infatti, anche... Ma perché continua a difendere questa signora Barsa? Io non lo capisco proprio, cosa ti entra con lei? E' una persona per bene, ha capito? Ma io non ho motivo... La persona non ha volte della mia fiducia, come io l'ho detto allo primo incontro. Signor Sindaco, non può stare lì. Va bene, ma... Deva anche della sua, della sua, della sua personale condizione, io non sto differitendo. Signor Sindaco, lei mi va rappresentando. Immediatamente, ovviamente, un po' se ne va alla Regione. Ma io sono... Oppure legge. Io l'ho rassegnato, lei mi... Grazie. Ottieni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.